Le organizzazioni sindacali hanno convocato per i prossimi 26-27 marzo le assemblee con gli operai dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona a distanza di qualche settimana da Vertice Romano in cui è stato discusso il piano industriale. La produzione del Ducato andrà avanti fino al 2028, ma ci sono alcune lavorazioni prossime alla scadenza e la gara per la piattaforma Lageri Stellantis non è stata vinta dalla Marelli. La direzione aziendale è quindi impegnata nella ricerca di nuove commesse. L'utilizzo degli ammortizzatori sociali potrebbe riprendere a giugno in ragione di un leggero calo dei volumi delle previsioni di budget che comunque andranno verificate. La situazione dello stabilimento di Sulmona in prospettiva è certo quella che preoccupa maggiormente. Commentano FIM, FIOM, Wilwe o GLM nazionali che temono uno scenario ancora più dersolante di Crevalcore. Resta in sospeso anche il discorso dei potenziali esuberi. Ne sono previsti 100 nel 2024, ma nessun operaio andrà a casa, rassicura l'azienda.